Per reimpostare la password associata ad un utente Aruba Drive e ottenere nuovamente l'accesso al pannello, devi collegarti all'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci il tuo username chiocciola aruba.it, la password e il codice di controllo mostrato nell'immagine. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi selezionare il nome del dominio su cui è attivo il servizio Aruba Drive. Diversamente, l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra, clicca su Aruba Drive e dalla sezione Gestione utente, clicca sull'icona dei tre puntini relativa all'utente di cui desideri resettare la password. Scegli la voce Reimposta password. Dalla finestra che appare, inserisci la nuova password. Durante l'inserimento, il sistema verifica in automatico se i requisiti sono rispettati, spuntandoli in verde. Clicca sull'icona dell'occhio per vedere in chiaro la password. Conferma la nuova password e clicca su Reimposta.